Un concorso di respiro internazionale con ospiti prestigiosi e partecipanti provenienti da tutta Italia. E' la terza edizione del concorso di saxofono Città di Mottola, in programma il 17 e il 18 luglio. L'evento, anche quest'anno, manterrà la sua valenza didattica, grazie a una masterclass tenuta dal sassofonista francese Bruno Totarò, docente presso il Conservatorio di Vichy e direttore della raccolta Sax Stop per le edizioni Lafitan. Organizzato dal maestro Giuseppe Pace, con la collaborazione dell'Associazione Musicale Silvio De Fiori, Il concorso prevede domenica le audizioni dei partecipanti e la masterclass. La prima giornata proseguirà con la conferenza di Armando Guidoni, compositore dell'Alphonse Leduc Edition Musicale, e si concluderà nell'atrio di Palazzo Municipale con il recital di Bruno Totarò, accompagnato al pianoforte dalla musicista serba Sandra Stojanovic. La serata del lunedì sarà invece dedicata alle premiazioni dei vincitori. Il festival si chiuderà alle 20.30 con il recital del Fandango Sax Quartet. Ci stiamo provando a portare sempre avanti questa manifestazione. Negli anni scorsi abbiamo avuto un buon successo, speriamo anche quest'anno. La cosa importante è che comunque arrivano docenti di fama internazionale, per quanto riguarda la commissione giudicatrice del concorso, e comunque nei concerti serali. Io ritengo, anzi sono convinto, che la cultura sia un vettore di sviluppo, almeno un potenziale vettore di sviluppo. Per quanto riguarda il concorso, sono quattro le categorie, individuate per limiti di età e con un programma imposto. I nomi dei giurati verranno resi noti solo la sera della premiazione.